Il fischio di Lotti, parte Francesco Dotti con il destro, RETE! 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 Francesco Dotti, 1-1, 1-1 alla Juventus Stadium, tutti hanno avuto l'interesse, la partita torna in parità e scuode il settore ospite, si torna in parità, 1-1! RETE! 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 Francesco Dotti, 1-1, 1-1 alla Juventus Stadium, arriva la fin del capitolo giallo rosso, 1-1! Adesso il match! Il fischio di Lotti, parte Francesco Dotti con il destro, RETE! 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 Sì, parità, 1-1! Con il contesto, il numero 10 dotti! Non l'ho mai segnato, nè a deviava giro!